SANTO Cielo Vuoi spiegarmi che diavolo sta succedendo? Drake non voleva portarvi al tesoro dall'isola, Sally. Cercava di evitare che se ne allontanasse. Cosa? Maledetto, qualcosa del genere. Per l'amor del cielo. Ascolta, so che sembra folle, ma devi credermi. Accidenti... wow. Dovreste aver capito ormai che è un piano per qualsiasi evenienza. Ora mettete giù le armi. Lì a terra. Niente eroismi, per favore. Altrimenti la ucciderò. Bene. Ora, se avete un po' di pazienza, saremo da voi tra un istante. Straordinario. Che maestria. Non ho mai visto niente di simile prima. E questo è solo l'esterno. Il vero tesoro di Eldorado. È all'interno. Aprilo. Dio mio. Guarda. Navarro. 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 Adios, jefe. Quanta poca fantasia. Baja in la red. Baja in la red. Navarro. Quella cosa ha spazzato via un'intera colonia. Non sai quello che stai facendo. Sbagliato. Io sono l'unica persona su quest'isola che sa cosa diavolo sta facendo. Cargala in statua. Cuidado. Siete così patetici. Persi alla ricerca dei vostri insignificanti tesori. Avete una minima idea di quanto questo possa valere? Trovando il giusto acquirente. Levante il loro. Levante il loro. Oh no. Che diavolo è? Gesù, cosa sono? Sono gli spagnoli, Sally. Non sono mai andati via. Dio mio. Se quello lascia l'isola... Devi fermarlo. Io ti copro da qui. Cosa sono quelle che... La quella pa***a... No. No! Hey! Merda! Merda! Oh mio Dio! Ma te no! Uccidilo! Sei morto Drake! Uccidetelo! Fermatelo! Non male, vero? Fermatelo fuori! Sparate! Sei mio! Sparpagliatemi! Fermatelo! 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 Sintetelo! Fermatelo! E' stato colpito. Ok. Ti ho preso. Questa è la fine. Oh no! Dai! Uccidemelo! Massimo, è brutto massimo. No! Lo vedo. Non puoi fuggire ora! Ocidemelo! Ti ho preso! Ti ho preso! Ti ho preso. Ti ho preso. Ti ho preso. No, per me. Non! Ti ho preso. Ti ho preso. No! Sie! È… I… Somi! Elena! 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 Oddio! Elena! Forza! Ce la fai! Ok, tutto ok. Fai bene! Nate! Attenzione! Adios, imbecile! Dio! Che giornatina! Già, salva il mondo, trionfa sul male. Una giornata tipo. Infatti. E' un peccato, però, andarsene a mani vuote. Oh, beh... Sai... Sono riuscita a salvare una cosetta. Tieni. Pensavo che l'avresti persa. Grazie. Già. Voi due avete una strana idea di romanticismo. Sally! Wow! Hai... Hai un aspetto orribile. E dovresti vedere gli altri. Procuraci una barca. Eh... Abbiamo già una barca. Già. Una grande barca. Questa mi piace di più. Sally! Straordinario figlio di... L'ho presa da un paio di pirati che erano troppo morti per obiettare. Mi dispiace che non hai avuto la tua storia. Eh... Non importa. Ci saranno altre occasioni. E me ne devi ancora una. Puoi contarci. Alla fine! Alla fine! Alla fine! Alla fine! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.